Allora stiamo prendendo qui, riprendendo, sta venendo su una locomotiva e non si capisce se riesce ad arrivare in cima, comunque il rumore si sente, sentite come sta facendo le pennette e va tutto a posto, tutto bene, penso che sia arrivato Non tirano la ruota dietro, metti il blocco Allora stiamo prendendo la ruota dietro, metti il bambino, metti il bambino, metti il bambino Cosa vuoro! Lai! 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 a sinistra viene dietro il grillo parlante il gancio di Walter è venuto via bellissimo non c'è più non fate questa ma passate lì e dove il patron ha sfondato? no sto casino ho fatto tutto il pato no il pato l'ha sfondato il island bisogna fargli l'asfalto no va via la macchina dell'asfalto diamo l'aspaltatino dietro 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 buono qui siamo dritto ma dritto! non cava a dirgli due robe accelera e stessa vai 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 rima rima rima! apri la bocca respira! vai indietro vai indietro giovi fino laggiù fino laggiù vai adesso vai provi vai vai come sta? vai giovanni giugas stessa un po' destra venga 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 vai no 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 vai vantica nega vantica nega vantica sorridi sorridi urmi Sì, è un po' di riduzza grazie a tutti 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 a tutti